Sappiamo tutti che quando due performer salgono sul ring fanno di tutto per tutelarsi a vicenda, anche perché altrimenti dopo due match metà del roster sarebbe probabilmente all'altro mondo. Però è anche vero che spesso nel backstage o sui social nasce un odio ingiustificato o alimentato da qualche sottigliezza che porta due atleti ad alzarsi le mani, per davvero. C'è un vero e proprio Fight Club negli spogliatoi. Ed è per questo che oggi sono con voi non per una top 5, ma per una top 10, e segnatevi bene questa data perché è un evento, delle 10 risse reali tra wrestler WWE accadute dietro le quinte o in altri luoghi non meglio precisati. Quindi mettetevi comodi, godetevi questo video e devo ringraziare le superstar che si stanno sulle balle perché quando si pestano nel backstage mi forniscono materiale da portare sul tubo per offrirvelo. Partiamo col botto, Yves Torres contro Matt Hardy. Qui parliamo di un livello di comprensione umana che va oltre i limiti delle persone comuni. Effettivamente c'è di mezzo ma tardi, che è in grado di teletrasportarsi nelle arene, quindi va bene tutto. Seduti allo stesso bancone del bar di un hotel durante un tour oltreoceano non ben specificato, Matt propose alla bella Eve di sfidarsi in un match di wrestling fra una bevuta e l'altra. Non chiedetemi che idee abbiano questi qua, ma sorvoliamo. I due, pieni come una spugna dentro ad un secchio di whisky, iniziarono scherzosamente a provare qualche mossa a terra. E so che sembra l'inizio di una certa tipologia di video che tutti conosciamo. Ma lasciatemi finire, sporcaccioni. Ad un certo punto il fratello di Jeff colpì per sbaglio l'occhio della donzella, che diventò immediatamente nero. Questo mandò su tutte le furie la Torres, che tra le altre cose praticava da diversi mesi il jiu-jitsu brasiliano. Mai far incazzare una donna. Per testare l'efficacia di quella disciplina, l'allora intervistatrice applicò una Rear Naked Shock che fece perdere i sensi all'attuale membro della All Elite, tanto da farlo iniziare a russare sonoramente, scatenando le ironie dei colleghi per averle buscate così minimalamente da una donna. Io al posto suo mi sarei giocato la carta della sbronza imprevista, ma ormai è troppo tardi. Simon Goch contro Sin Cara. Sin Cara unico è sempre stato un bel peperino. È noto che nel backstage cercasse sempre di provocare i colleghi per poi prenderli a calci nel c***o vista la sua follia da gringo messicano. Nel 2016 trovò al catering Simon Goch e mise in atto il suo piano diabolico, lanciandogli in faccia una bibita gasata. Sicuramente non è il miglior spot per la sprite questo. L'ex compagno di Aiden English reagì, ma venne praticamente sodomizzato dal luceador mascherato e cartellato come una pignatta. In questo caso penso che al posto delle caramelle sia volato qualche dente per terra. Scimus contro Sin Cara. Rimaniamo in tema Sin Cara perché stavolta incredibilmente la colpa della rissa non fu sua, bensì dell'irlandese Scimus, il guerriero celtico grande, grosso e che condivide lo stesso colorito dello yogurt. Nel 2014 trovò Sin Cara in attesa di farsi controllare da un membro del personale dello staff medico. Senza tanti giri di parole gli disse. Sono molto più importante di te, quindi vai a farti un giro e lasciami il tuo posto. Ovviamente il luciador, vedendo questo omone incazzato che ha sempre avuto la gimmick del brawler buzzurro da pub, accolse il consiglio e le voletenne. Vero? Assolutamente no! Andò faccia a faccia, cioè ok, forse faccia a capezzo, l'ho vista la differenza di stazza tra i due, e spintonò via l'ex campione WWE, mollandogli poi una cartella nel muso che intrecciò i neuroni di Scimus come le treccine della sua barba. I due vennero prontamente separati, ma ancora una volta la follia messicana ebbe la meglio. Io soy un sin cara loco! Yoshitatsu. Contro Scimus! E' credibile, ancora lui! Però per parlare di questa storia bisogna fare un grosso salto indietro nel tempo, addirittura prima che esistesse NXT. Infatti parliamo dei tempi della FCW, l'allora federazione satellite della WWE, dove crescevano i talenti e venivano preparati per il lancio nel main roster. Ovviamente i soldi erano quelli che erano, ed infatti Yoshitatsu, Scimus e Teddy Biasi Jr. erano coinquilini nello stesso appartamento. Beh, se erano coinquilini era già specificato. Il Celtic Warrior si comportava come il big boss della casa, facendo i suoi porci comodi ed utilizzando spesso gli oggetti degli altri due, che un giorno, stufi delle angherie, si confrontarono con lui. Con le spalle al muro, Hiroshi tirò dietro al nipponico la prima cosa che trovò sotto mano, uno shaker per le proteine, che tra l'altro apparteneva proprio a Yoshitatsu. Il giapponese però lo afferrò al volo e da lì partì la rissa. Dai, se con Sincare è andata male la differenza di stazza tra questi due era così importante che chiaramente... no. Scimus le ha prese di santa ragione anche stavolta. Ne ha prese talmente tante da arrivare a piangere e a chiedere pietà, anche perché Tatsu si era allenato nel dojo della New Japan Pro Wrestling, dove insegnano anche arti marziali e pugilato. Un'altra versione dei fatti è che quella piattola irlandese chiese in prestito dei soldi al peso leggero e poi fece finta di niente e Yoshitatsu, in pieno Steve e Griffin, continuò a chiedergli finché non esplose. Joyce Tice contro JBL JBL, due metri di Cristiano aditato come uno dei peggiori bulli mai passati dagli spogliatoi WWE. Non doveva certo essere una presenza piacevole, oltre ad aver mandato in depressione Mauro Ranallo a un altro precedente di bullismo ai danni di un telecronista. Durante il tributo alle truppe del 2008 in Iraq, il cornotone passò la maggior parte del tempo sbronzo come un quindicenne dopo il primo shot di vodka alla fragola, prendendosela per tutto il viaggio con Joyce Tice e Lilian Garcia. La ragazza ovviamente non mosse un dito, ma l'uomo, stanco dei comportamenti dell'ex campione WWE, decise di reagire sferrandogli una cocuzza dritta sul naso, stendendola a terra come una pelle di daino. Per diversi giorni il texano non aprì bocca con nessuno dei colleghi, standosene in redigioso silenzio insieme al suo cellulare. Deve ritenersi comunque fortunato, visti i trascorsi del commentatore nella ECW originale, è già buono che non sia finito crocifisso con il filo spinato. Big Show contro Great Khali. Vi immaginate quanto goffa sia stata una rissa del genere? Eppure lo scontro tra titani avvenne per davvero. Cioè roba tipo King Kong contro Godzilla, che tra l'altro uscirà a novembre nei cinema. I due erano coinvolti in un tag team match e ad un certo punto il gigante indiano rubò il famoso spot delle cioppa all'angolo dopo aver chiesto all'arena di fare silenzio. Questo nel backstage fece infuriare di brutto Big Show che andò faccia a faccia, anzi facciamento, con Khali dicendogli testuali parole. Brutto figlio di bottana mi rubasci la mossa? Probabilmente non con questo accento, ma voi c'eravate per confermarlo? Io no. Ora, immaginate la risposta di Khali, che praticamente non parlava inglese e quando lo faceva con quell'accento sembrava avesse ingoiato un telecomando in orizzontale. Comunque fu qualcosa tipo, cosa stai dicendo bro? Il gigante, ma aspetta sono entrambi giganti. Il gigante americano tirò un calcio alla borsa di Khali. Chiaro segno di sfida, manco fosse lo schiaffo col guanto nel Far West. La battaglia era pronta ad iniziare. Big Show aveva un passato da pugile, mentre Khali da bodybuilder, ma anche da poliziotto in India. Minchia, pensate se tornate alla macchina e beccate un cristiano, anzi, un hindù di 2,30 m a farvi una multa. La contestereste? Shomolò la prima mina sul mentone da damantio dell'unto, che però incassò e reagì con un pugnazzo a sua volta. Che poi questi hanno mani grosse come padelle. Immagino che per un comune essere umano sarebbe l'equivalente dello schiocco di dita di Thanos. Dopo una serie di pugni, il mostro del Punjabi mise a segno il colpo vincente, facendo indietreggiare Big Show che inciampò in una sedia e finì a terra perdendo l'equilibrio. Alcuni sostengono che fosse addirittura in lacrime. Oltre al danno però arrivò anche la beffa, perché Vince McMahon gli disse di scusarsi pubblicamente per aver attaccato briga. Avrei pagato per vederlo. Batista contro Booker T. L'animale, oltre alla carriera nel wrestling, ha avuto anche una gloriosa parte nei panni di Drax il distruttore e anche una parentesi nella MMA dove sconfisse Mimmo il macellaio nel suo unico incontro. Oh, è pur sempre imbattuto però. Booker T dal canto suo ebbe un'infanzia difficile con sette fratelli, perse entrambi i genitori a 13 anni e pochi anni più tardi trascorse 19 mesi in prigione per rapina a mano armata. Diciamo che è l'ultima persona che vorresti davanti incazzata, ecco. E questo lo pensò anche Batista quando venne sopraffatto durante una rissa nel backstage. Correva l'anno 2006 e durante le riprese di uno spot pubblicitario per SummerSlam, Batista, da superstar assoluta qual era, stava iniziando ad assumere atteggiamenti un po' altezzosi, che al veterano 5 volte campione mondiale in WCW non andavano per niente giù. Durante questa campagna, The Animal non salutò quasi nessuno degli altri wrestler, ignorandoli e facendosi gli affari suoi. Taribo West si confrontò con lui e lo martellò per bene con Drax che l'unica volta che lo colpì lo fece alle spalle quando l'alterco era ormai terminato. Oh, coraggioso, eh? Chris Jericho contro Goldberg. Sapete già quanto io stia godendo, vero? Lo sapete? Goldberg, un animale selvaggio con la tire da fighter di arti marziali tra guantini e mutandini, con un passato da commentatore per una promotion fallita in poco tempo e perfino da giocatore professionista di football. Quanto potrà essere cazzuto in una rissa? Risposta? Pochissimo! Y2J apprese da alcuni colleghi che Daman, appena prodato in WWE nel 2003, sparlava apertamente del canadese soprattutto con Kevin Nash. Nonostante l'ex campione All Elite non avesse nessun tipo di background nelle arti marziali, decise di confrontarsi con lui negli spogliatoi. Bill in tutta risposta lo afferrò per il collo, ma il miglior amico di Kevin Owens lo spinse via. Ed è lì che il pelatone tentò una vera e propria spiar per placare il rivale. Gerico però si scansò, afferrandogli la testa in una headlock, portandolo al tappeto fino a farlo quasi svenire. I colleghi li separarono, ma io posso dirvi che sto ancora godendo a leggere e scrivere queste cose. Y2J disse anche, puoi stringermi la mano e farla finita ora, oppure possiamo continuare così ogni settimana, finché non ti stancherai di farti prendere a calci le mele. Non penso che fossero testuali parole, ma il contesto era quello. No alla violenza, mi raccomando. Anche se su Goldberg ogni tanto. Brock Lesnar contro Chris Gerico. Chris, devi essere davvero un fottuto pazzo. Prima Goldberg e poi Brock Lesnar. Ebbene sì. Dopo il match con Randy Orton a Summerslam 2016, dove The Beast spappolò la fronte della vipera a suon di gomitate fino a farla zampillare come la fontana di Trevi, il cliente di Paul Heyman tornò nel backstage. Ma ad aspettarlo c'era proprio Y2J, che pensava che il finale fosse una cosa fuori dal copione, e che questa iniziativa della bestia mise in pericolo la salute del suo buon amico Randy. Vi anticipo che non volarono mazzate, per fortuna, perché altrimenti Gerico oggi sarebbe due metri sotto un cipresso, probabilmente. Però il cantante dei Fozzi ebbe il coraggio di andare muso a muso con quello che è nella top 3 degli uomini più pericolosi del pianeta, soprattutto se fatti incazzare. Vince McMahon si intromise separandoli, ma ha voluto inserire questo nella classifica perché... Boh. Cioè, Chris Gerico è ancora vivo per raccontarlo, quindi direi che è una grandissima vittoria. E per concludere, Brock Lesnar contro Kurt Angle, la bestia ed eroe olimpico, probabilmente i due combattenti più incredibili di sempre come background passati dalla WWE. Insieme ad altri pochi eletti, mi vengono in mente Ken Shamrock o Ronda Rousey. Nel 2003, uno era medaglia d'oro olimpico di lotta greco-romana, e l'altro pluricampione di wrestling universitario dei pesi massimi, anche se ancora non era entrato nel mondo delle arti marzialiniste. Per fortuna per il pelatone. E così, tanto per gradire, i due decisero di testare le loro skill per scoprire chi dei due fosse il miglior wrestler del roster. E proprio il roster non è che li separò, no, li incitò a fare questa prova. Ma quella partita come una scommessina per gioco degenerò nel più classico dei Fight Club, soprattutto quando l'ex campione UFC disse che non c'era storia perché era troppo più potente e grosso per uno della stazza di Kurt Angle. Per circa 12 minuti andarono in guerra vera. Brock, grazie alla sua forza bruta, dominò per gran parte della sfida. Ma grazie alla maggiore esperienza e ad un background da campione olimpico, Angle riuscì ad atterrarlo mettendo fine al loro alterco. Ed è sicuramente una storia da raccontare ai nipotini, perché fra ha sconfitto Brock Lesnar in una lotta vera, anche se era ancora giovane inesperto. Ripeto, se fosse il Brock Lesnar di ora probabilmente Angle diventerebbe uno stuzzicadenti samurai. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto, spero di avervi divertiti. Con questa top ten e non top five riconoscete e premiate l'impegno con un bel like, commenti, condividete, datemi soldi, datemi... no ho sbagliato, ma sto divagando. Noi, come al solito, ci sentiamo ad un prossimo video, perché è dal vostro Certified Why. Un bel hasta luego! Ciao! 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 Grazie a tutti.